E quando sentiamo questa canzone ma soprattutto pensiamo anche al lupo ci viene in mente un personaggio nostro italiano famosissimo al quale dedichiamo questa parte della puntata proprio perché c'è una mostra straordinaria che Roma ha voluto omaggiare con una splendida mostra all'Arapacis e per noi è andato Massimo Tosi Cari amici di Una Mattina oggi non vi scriviamo perché insieme una grande mostra dedicata a questo genio musicale vogliamo visitare Alessandro Nicosia curatore di questa grande mostra evento io direi di fare insieme oggi un viaggio proprio nella vita del grande maestro che ne pensa? E beh un po' l'obiettivo della mostra quello di raccontare non solo il percorso artistico musicale ma anche quello personale Il grande Lucio qui piccolo Lui è già un attore e il suo talento già viene fuori a 5 anni e mezzo Ma questo è Manfredonia dove lui andava proprio ogni estate davvero Ogni estate con la mamma la mamma era una modista portava le sue collezioni alle signore pugliesi e lui l'accompagnava con le sue canzoni Qui arrivano gli anni 60 all'incontro con i grandi artisti del momento E Gino Paoli lo convince a lasciare il gezzo e inizia un percorso di musica leggera Poi il grande successo Di Sanremo guardiamone un attimo Conviva 16 anni Quel giorno la mia mamma Le strofe di taverna In queste foto c'è il mondo perché dal Papa a Ciampi a Napolitano non manca nessuno Alessandro questa è una pianola speciale perché? È quella che usa l'ultimo concerto in Svizzera prima di andare in cielo L'ultima immagina è questa Beh sì perché il pubblico lo vuole vedere mentre canta Grazie Alessandro Ciao Lucio E grazie Massimo Tosi Allora adesso qui in studio persone che non solo l'hanno conosciuto Ma hanno avuto anche la fortuna di poter lavorare con lui Allora Iskra Menardi storica corista di Dalla Benvenuta grazie per essere qui Ciao E Pier Davide Carone cantautore Allora Pier Davide subito a te perché Sanremo 2012 Ricordiamo che 12 giorni dopo purtroppo ci ha lasciato Allora ci racconti com'è andata poi l'emozione di essere lì Beh è andata che... Con una persona che ti guardava anche perché faceva il direttore Ma infatti sembrava che dirigesse l'orchestra in teoria Ma in realtà stava dirigendo me perché aveva lo sguardo fisso su di me Ed è questo che probabilmente mi ha fatto vivere Sanremo meglio di come l'avrei vissuto Se fossi andato lì da solo anche perché ero molto giovane E lui è venuto con me anche perché la sua presenza ha fatto sì che tutto quello accadesse E però ha fatto sempre un passo indietro Non è... Ti ha lasciato il palco possiamo dire Sì perché chiaramente a Morandi sarebbe piaciuto averlo sopra il palco vicino a me Però lui ha detto no, canta lui Io gli sto dietro, dirigo Quando ti rivedi nell'esibizione ti emozioni ancora? Sì perché mi ricordo l'esibizione è stata la fine di un percorso cominciato mesi prima E quindi quando vedo quello vedo anche tutte le giornate a Bologna E lo studio di registrazione Lui che mi dice ho una notizia terribile, siamo a Sanremo E allora dopo dieci anni ci vogliamo rimozionare anche noi Te lo facciamo rivedere E mi hai chiesto di andare via Nani 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 Piove ma non ti puoi riparare C'è un camionista da accontentare Nani 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 Anche lui è solo come noi Siamo dentro un mondo senza eroi Beh sicuramente l'emozione è tanta Allora Isca Menarini Quando l'ha conosciuto? Quanto tempo poi ci ha lavorato anche? E com'era lavorare con Lucio Dalla? Eh insomma abbastanza Allora l'ho conosciuto Un momento che io ero una rocchettara E veni in questo posto con Curreri E mi disse sto cercando Non una curista Sto cercando Mi fece un provino E da lì partita la mia vita Sono stata assieme a lui 25 anni Vissuti proprio sempre Mi voleva sempre lì E chiaramente c'erano noi Ma era esigente comunque? Perché i grandi artisti poi alla fine Giustamente per arrivare Sono anche diciamo duri poi quando lavorano Ma diciamo che mi ha trattato bene Dai C'è un aneddoto che ricordi in particolare In questi 25 anni? 25 anni Anche a me ha mandato a Sanremo Solo che io avevo 62 anni E mi sono abbastanza vergognata Ho detto ma non mi puoi mandare a Sanremo Ma se io lo dico lo posso fare Ed è andata bene Perché poi ho cantato Quasi Amore Che è un bellissimo brano Su di Lucio E quindi è stato un bel viaggio Diciamo così Adesso mi emoziono molto Se dovessimo fare un salto indietro 20 anni fa 2002 Quando lui Prima ha fatto il direttore Diciamo a Sanremo Poi dopo addirittura Con Sabrina Ferilli Ha fatto il presentatore La Belle e la Bestia La Belle e la Bestia Te lo ricordi? Certo Me lo ricordo Vogliamo dare un pezzettino? Eh sì Certo Amore mio Non devi stare in pena Questa vita in la catena Qualche volta fa un po' Guarda come sono tranquilla io Anche se attraverso il bosco Con l'aiuto del buondino Stando sempre attenti a l'uno Attenti a l'uno Attenti a l'uno Living together Pier Davide Tu sei una delle ultime persone Che lo ha visto Qual è l'ultima immagine Che hai di lui? L'ultima immagine che ho di lui Che lo stavi raggiungendo poi Vero? Sì Che lo devi raggiungere Proprio per un concerto Sì Perché lui Ha fatto la data zero Del tour europeo A Sassuolo Ed è stata l'ultima volta Che l'ho visto Perché lui Poi mi fece salire sul palco A metà del suo concerto Per farmi cantare Nani Lui era sotto al pianoforte C'era tutta la band Dopodiché A fine concerto È stata l'ultima volta Poi che l'ho visto Mi disse Io adesso parto In giro per l'Europa Tu dimmi una data E un luogo E mi vieni Raggiungi Facciamo Nani Anche in Europa Pensa che in realtà È sempre lì con te Fisso Ogni volta che sali su un palco E... Cosa hai in mano? Questa è una compilation Che ho azzardato A cantare I suoi petti E... Lucio Dove vai? Io sono qua Ecco Ma anche lui è con noi È con noi Assolutamente sì Grazie Grazie Iskra Menarini Grazie per essere stata con noi Per la tua testimonianza Pier Davide Speriamo di rivederci E risentirci Anzi Avremo quest'onore